Sale il prezzo della tazzina di caffè, le avverse condizioni meteo in Brasile, il cambio euro-dollaro, la necessità di evitare il passaggio nel Mar Rosso con un aumento di costi e tempi di percorrenza, rischiano alla fine di penalizzare i consumatori nel rito più amato al mattino dagli italiani. Dal nord al sud sono già davvero poche le città dove è possibile iniziare la giornata pagando una tazzina di caffè in meno di un euro. La media, secondo i dati ministeriali elaborati da ASSO utenti, è di un euro e venticentesimi, ma in prospettiva gli importatori e torrefattori lanciano un allarme per la situazione internazionale esistente, paventando anche il rischio di vedere il costo di una tazzina di caffè salire a ben due euro. I fattori internazionali incidono infatti notevolmente sui costi di importazione del caffè fino al 50% in più rispetto ad appena sei mesi fa. Per ASSO utenti, analizzando attualmente le città italiane, quella che detiene il primato del caro caffè lungo la penisola è Bolzano con il prezzo medio di 1,38 centesimi a tazzina, seguita da Trento 1,31, mentre tra le città più economiche risultano Catanzaro 0,99 centesimi a tazzina e Napoli 1,05 euro.